Si è tenuta ieri mattina presso la sala polifunzionale di piazza Plebiscito a Cassel di Sangro la conferenza comunità e resilienza 1984-2024, 40 anni dal tremoto dell'Italia centro-meridionale, al termine della quale il sindaco Angelo Caruso ha conferito al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, rappresentata dal capo Dipartimento Fabrizio Curcio, la civica onorificenza di riconoscimento di alti meriti della città. L'apertura dell'incontro è toccata al sindaco di Cassel di Sangro e presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che dopo i saluti istituzionali ha voluto ricordare alla sala gremita di volontari, ragazzi delle scuole e cittadini, il ruolo importante della protezione civile. Il dibattito è poi proseguito con l'intervento del capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, incentrato sull'evoluzione della protezione civile negli ultimi decenni, del passaggio da un volontariato spontaneo in un volontariato organizzato e formato e di come siano stati centrali gli eventi sismici del 1984 nel rendere possibile questa evoluzione. Al termine della conferenza il sindaco ha conferito la civica onorificenza di riconoscimento di alti meriti della città al capo Dipartimento della Protezione Civile. dell'evento si è concluso con la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Comune di Castel di Sangro ed Agenzia di Protezione Civile Abruzzo sull'accoglienza della popolazione della zona rossa vesuviana in caso di ripresa dell'attività vulcanica del Vesuvio.